Il braccio di ferro tra indignados e forze dell'ordine sfocia in Tafferulli, in Spagna. A Barcellona oltre 40 persone risultano contuse dopo che la polizia regionale catalana ha cercato di sgomberare l'accampamento di circa 300 manifestanti in Plaza Catalunia. Oltre a quello degli agenti, le autorità hanno chiesto l'intervento dei servizi di igiene, chiamati a ritirare ogni oggetto potenzialmente pericoloso in vista del match del Barça contro il Manchester United a Wembley per la finale di Champions League. La piazza domani si affollerà di migliaia di tifosi, soprattutto in caso di vittoria degli spagnoli. Così come in tutta la Spagna, anche Barcellona è da oltre dieci giorni teatro della protesta degli indignados contro, tra le altre cose, la disoccupazione e le misure di austerità adottate dal governo Zapatero.